Opera di un italiano. Quando improvvisamente il quadro si frantuma sotto i vostri occhi, nel panico raccogliete tutti i frammenti da terra, li ricomponete, ci riuscite, ma vi accorgete che ne manca un tassello. Siete nei guai. Però io posso aiutarvi, perché sono entrato nel vostro sogno, circa a metà, anzi nel vostro incubo, e ho raccolto tutti i frammenti da terra, compreso quello che sarebbe andato perduto fra poco. Ecco, signori e signori, ecco il vostro incubo. In questa busta ci sono 100 tasselli, fra questi 100 tasselli c'è anche quello che manca per completare l'opera. Ora insieme lo ritroveremo. Visto che voi da casa non potete interagire con me, lo farà per voi niente meno che Stefano Masciarelli. Stefano, per favore, vuoi venire ad aiutarmi? Oh, ecco di. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao. Stefano, Prima di tutto vorrei che mescolassi questi tasselli nella borsa, metti pure dentro la mano, ecco, prendine una manciata. Ne sono un grande mescolatore, sembra un po' di essere ritornati a Natale, ecco. Pescane una manciata. Una manciata. Allora io vorrei che tu controllassi innanzitutto che sono mescolati bene, falli magari vedere in telecamera. Vediamo l'in telecamera. E ovviamente devi vedere che sono tutti diversi, è vero? Sì. Perfetto. Mettili in borsa. Tutti? Sì, sì, sì. Ascolta Stefano, ti sarai reso conto che non sarà semplice? Trovare il tassello che manca per concludere l'opera. Ebbè no. Però ti aiuterò io. Dai. Guiderò la tua scelta per mezzo del fuoco. Vedete questo, questo foglio di carta? Ecco, ho scritto sopra una, una formula magica. Ora Stefano, brucerò questo fogliettino, tu dovrai fissare la fiamma, non appena la fiamma si sarà spenta, dovrai chiudere gli occhi e rispondere a una semplice domanda. Sei pronto? D'accordo. Attento. Dimmi, il tassello che stiamo cercando sarà il primo che sorteggerai, oppure il secondo, il terzo, il quinto, il decimo, quale sarà Stefano? Settimo. Il settimo. Pezzi li hai verificati tu, li hai mescolati. Sì. lentamente, uno per volta, mostrando l'intericamera, pesca sette tasselli. Uno. Due. Due. Sì. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Attenzione Stefano, concentrai per l'ultimo tassello, questo è il pezzo decisivo. L'ultimo, appoggili pure sul tavolo se vuoi, gli altri. Sì. Il settimo, prendi il settimo, quello che tu hai scelto, sotto l'effetto del fuoco. Mostra l'intericamera, perfetto. Ora, qui sotto, c'è l'opera del nostro sogno, la gioconda. Come vedete, ne manca un frammento. Stefano, puoi avvicinarti, per favore? Se l'esperimento è riuscito, ovviamente, questo sarà esattamente l'unico tassello che ci serviva per completare l'opera. Grazie. Quindi, signori, 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 votate Alex Bettinaroli perché è l'uomo che salvò la gioconda.